Benvenuti a Camera di Commercio News. La Camera di Commercio di Torino dedica particolare attenzione all'imprenditoria sociale, cooperative, terzo settore, associazioni di volontariato e start-up, un ecosistema in costante crescita che registra 5.000 realtà in Piemonte e 2.000 nel torinese. I dettagli nel servizio. La Camera di Commercio segue l'impresa sociale nell'arco della sua vita, dall'idea al progetto fino all'avvio dell'attività fornendo informazioni su requisiti, costi e finanziamenti. Sempre di più le aziende del territorio sviluppano tematiche connesse alla responsabilità sociale di impresa. Tuttavia solo un'impresa su quattro sceglie di valutare oggettivamente l'impatto sociale delle proprie scelte imprenditoriali. Proprio per promuovere la cultura della misurazione nasce il centro di competenza della Camera di Commercio. Il centro ha anche offerto al personale interno delle organizzazioni profit e no profit 40 posti per un corso di aggiornamento professionale presso l'Università di Torino che partirà a gennaio. Attraverso la piattaforma Torino Social Impact la Camera di Commercio è aperta a tutti i soggetti che operano nel campo dell'innovazione sociale, innovatori, imprese, investitori che sfruttano le nuove opportunità tecnologiche per produrre intenzionalmente impatti sociali positivi coniugando la sostenibilità alla redditività. Torino è candidata ad ospitare a maggio 2020 il Summit dei principali investitori di impatto sociale a livello mondiale e intanto la Camera di Commercio e la Compagnia di San Paolo hanno firmato una convenzione che stanzia 600.000 euro in tre anni a sostegno delle attività di Torino Social Impact. È tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.